Oh Gigi, oh Pia, è terribile! Ti richiamo subito! Cos'è successo mia regina? Dariano è uscito e non l'hai più rientrato! E che cavolo è tu Dariano? Aspetta! Ah ciao, senti, ti richiamo subito! Adesso non posso, sono con la regina! E quindi chi cavolo è sto Dariano? Come chi è? È il maggiordomo! Abbiamo un maggiordomo? Mai visto, mai sentito! Dai su, oh Gigi, cosa vuol dire mai visto? Ah, ma tu dici quello alto, biondo, brutto! Proprio lui! Mio regina, mai visto, mai sentito! Comunque adesso rilassati e spiegaci cosa è successo! L'ho mandato a comprare il minestrone, sai? Ti posso richiamare io? Ok, ciao! Posso parlare? No perché... L'ho mandato a comprare il minestrone, sai quello buono? Con le verdure, i fiseli, i carote... Buonissimi! Sì, ma... Stringi! Ah già, diceva, l'ho mandato a comprare il minestrone, un minuto fa e ancora non è tornato! Dai su, dagli tempo, è appena uscito! Dagli tempo! Gli ho dato 10 euro per comprare il minestrone, mannaggia, io non lo torno, mannaggia! Mio Gigi, ma se io ci fai, dagli tempo! Nel senso di darmi del tempo! Un po' come dire... Dagli tempo! E... Mi ha detto, volo un minuto e sarò di ritorno, mi ha preso in giro, mi ha preso in giro, mi ha preso in giro! Ma no mia regina, l'ha detto per dire che avrebbe fatto presto in un minuto! Perché l'ha detto anche a voi? Allora ci ha preso in giro tutti, ci ha preso in giro tutti, ci ha preso in giro tutti! Sì, ma... Stringi! E quindi che chied... Mio Gigi, ma ci sei o ci fai? Dagli tempo! Avrebbe fatto... Un minuto! Un minuto! Un minuto! E il minuto! Uf, ragazzi! E il minuto! Un minuto! Un minuto! Un minuto! Tutti!